Ti ha mai capitato di aggiornare manualmente un report mille volte al giorno? Oggi cambiamo le regole del gioco. In pochi minuti ti insegno come collegare un file Excel su SharePoint a Power BI e configurare aggiornamenti automatici. Mai più lavoro manuale. Sono dati aggiornati in tempo reale. Parliamo! Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Akam Abushanab e qui parliamo di dati analytics, business intelligence e tutto quello che riguarda il mondo dei dati. Nei video di oggi ti guiderò attraverso un processo essenziale come collegare un file Excel su SharePoint a Power BI o Excel tramite Power Query. Pubblicare il report e configurare un aggiornamento automatico in Power BI Service. Prendi carta e penna oppure segui semplicemente il video o parliamo. Step 1. Collegare un file Excel su SharePoint a Power BI Desktop o Excel. Preparare il percorso del file SharePoint o OneDrive. Vai su SharePoint come vediamo qui o OneDrive e trovi il file voi collegare. Nel nostro caso il nostro file è Norway New Car e da qui si clicca nelle altre opzioni e si mette Apri in App e poi da Excel si va Informazione, Copia percorso. Attento che non dovremo copiare il SharePoint, dovremo copiare proprio da qui, altrimenti non funzionerà. Ora apriamo nuova notepad e incolla il percorso. Abbiamo notepad, nota che qui dovremo modificare il percorso. Dovremo eliminare la parte finale. Ora dovremo copiare questo percorso e andiamo in Power BI. Ora vai su Ottini dati, Data, More o Più. Poi da qui dovremo scrivere SharePoint. Scegliamo le opzioni SharePoint Folder, Connect. Incolliamo il link, poi qui una nota importante di non includere sotto cartelle nel link ogni sistema aziendale o accademico vuole avere un collegamento diverso, ma solitamente il link root termina con qualcosa di simile. Nel nostro caso qui abbiamo Personal e poi il nome utente. Il percorso qui come vediamo, quindi tutto questo a parte dovrebbe essere eliminato. Il nostro percorso qui finisce con il Personal e poi il nome di utente, come vediamo qui. Ok, trasforma dati e poi da destra nella colonna Folder, abbiamo qui Folder Path. Peltrare i dati nella colonna Folder Path e individuare la cartella corretta. Però al momento scegliamo una a caso. Nel nostro caso, Fino Documents, come abbiamo visto da qui, e poi dopo Documents abbiamo questo file Excel che noi serve a collegare. Quindi dovremo andare qui, Orighi Feltrati, e da qui dovremo modificare il percorso. Dovremmo proprio mettere tutto il percorso che noi abbiamo, quindi Fino Documents, perché questa è la cartella in cui abbiamo il file che serve a collegare. Dovremmo mettere tutto il percorso, ok. Poi come vedi, e qui vedi il nome del file che serve. Ora siamo nel file. In questo file abbiamo diversi sheet. Quella che interessa per noi, Norway New Car. La prima riga di intestazione, Form, usa la prima riga come intestato. Tu abbiamo preso la tabella che serve a collegare. E da qui dovremo andare Home, Close. Una nota importante è che questi passaggi sono applicabili sia in Power BI che in Excel, grazie alla presenza di Power Query entrambi. Step 2. Pubblicare il report e configurare l'aggiornamento pianificato. Per pubblicare il report, dopo che abbiamo fatto Close and Apply, ora abbiamo qui il file, quindi possiamo mostrarlo. Ora, prima di pubblicare il report, se non hai ancora creato un'area di lavoro, vi spiego come dovremmo farla. Area di lavoro, nuova area di lavoro, chiamo un nome, SharePoint Test 1, Pubblica. Ora qui nell'area di lavoro abbiamo la nostra area di lavoro nuova. Ora torniamo al nostro report. Ora, dato che abbiamo un'area di lavoro dove possiamo pubblicare il report, possiamo andare Pubblica. Se chiamo un nome, test, possiamo salvarlo. Poi qui esce dove possiamo salvarlo. Nel nostro caso abbiamo appena creato un'area di lavoro che si chiama SharePoint Test 1. Select e così è stato pubblicato. Ora, per andare lì, caricare qui. Andiamo subito sul nostro dashboard pubblicata. Ora il passaggio configura l'aggiornamento pianificato. Dovremmo andare nell'area di lavoro sul Power BI Service, quindi dobbiamo andare qui. E poi dal nostro modello semantico dovremo andare sull'opzione pianifica aggiornamento. Ora, dovremo andare in un'opzione che si chiama Credenziale della fonti dati. E questo si trova sotto le credenziali dell'origine dei dati. Qui dovremo modificare. Mettiamo il metodo di autenticazione o Authent2. Impostazione del livello di privacy. Per questa mettiamo Pubblica. Intanto al momento non serve altre opzioni perché non abbiamo privacy nel nostro test. Però se hai altre privacy, dipende, dovrai mettere l'impostazione giusta. Accedi. Nel nostro caso accedo al mio account accademico. Poi ce l'abbiamo fatto. Questo è il primo step. Poi, impostare la frequenza di aggiornamento. Dovremmo andare su aggiorna. E mettiamo attiva, questa opzione. Ogni giorno. Possiamo anche scegliere a che ora si serve. Per me anche va bene ogni giorno. Qui riesce a mettere se è la persona proprietaria del modello semantico. O anche se può individuarli a altre persone. Nel caso che serve persone che sono utilizzate a fare anche questo aggiornamento. Nel mio caso solo io. Quindi metto Applica. Ora tutto è stato fatto. Questo passaggio è molto importante. Ora Power BI aggiornerà automaticamente i dati. Secondo la benificazione scelta. Step 3 verifica dell'aggiornamento per dimostrare che le impostazioni di aggiornamento funzionano correttamente. Sul report su Power BI Service. Quindi dobbiamo tornare qui. E andiamo per mostrare che questo report funziona, l'aggiornamento. Vorrei mettere nuova azienda. Quindi al momento c'è un'auto nuova che chiama Xiaomi. Al momento non abbiamo Xiaomi, come vedete i dati. E volevo aggiungerla. Vado qui. Nuovo anno. Andiamo da mese. Xiaomi. Andiamo quantità 5. Ora questo è stato aggiornato. Questo file. Quindi se entriamo qui. Ce l'abbiamo. Ora dovremo andare di nuovo sul nostro dashboard. E per aggiornarla. Ora non aspetto lo prossimo giorno. Perché volevo fare un test. Per vedere se funziona o meno. Per questo volevo subito fare aggiornare adesso. Ora non abbiamo nessun errore. Quindi questo significa che è funzionato. Però ci vuole qualche minuto per farlo presente qui. Non immediato. Ci vuole il sistema che carica un attimo. Come vediamo qui, questo è l'ultimo dato quando è stato aggiornato a questo orario. Per questo faccio accelerare per questo video. Eccolo. Aggiornato la pagina. E ora finalmente abbiamo Xiaomi. I dati. Quindi lo vediamo finalmente. Come tutti i dati che abbiamo inserito. Quindi Xiaomi visibili. Questo aggiornamento funziona. Ecco i dati aggiornati in tempo reale. Ora vediamo anche Xiaomi nel mercato. Grazie al connessione live tra SharePoint e Power BI. E grazie per aver seguito questo tutorial. Oggi sai come collegare un file Excel su SharePoint a Power BI o Excel. tramite Power Query. Pubblicarlo e configurarlo. Se ti è piaciuto il video. Lascia un like e iscriverti al canale. Per domande o suggerimenti. Scriverti nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Grazie.